Sabato 15 settembre 2007 si è tenuto a Vico de Gargano un concerto di fiati, diretto dal maestro Giovanni Battista Iacovone, con la partecipazione straordinaria del maestro Mario Marzi. Un concerto organizzato dall'Associazione Musicale Officina delle Musax di Schitella. Sono stati eseguiti brani tratti dal barbiere di Siviglia, di Rossini, da film celebri con colonne sonore di Nino Rota, Nicola Piovani e Sergio Leone. Inoltre il maestro Marzi si è esibito con i ragazzi della Uncle Sax Orchestra in brani di Astor Piazzolla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.